ciao ciao chico ti ho chiamato perché voglio vedere mio figlio se ascolta o meno le mie raccomandazioni ok adesso lui a casa da solo e volevo vedere se risponde o meno agli sconosciuti soprattutto se apre agli sconosciuti ok quindi lui è da solo a casa io citofono salgo e vedere se mi apre la porta lui non mi conosce quindi vediamo va bene grazie vado a provare aperto ciao sono un nemico di tua mamma lei sta arrivando intanto posso entrare ma in realtà non è vero non sono un nemico di tua mamma perché mi ha aperto lo conosci l'hai mai visto ti ho detto che aspettavamo qualcuno che ho telefonato avvisato di aprire a qualcuno non si apre gli sconosci non lo conosci non sai cosa vuole fare ciao 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 Grazie a tutti.